Adesso ci sarà l'intervento dell'Avvocato Stefano Palmisano che tratterà degli aspetti del diritto penale. Io preferisco restare in piedi perché sennò la voce non esce. Anzitutto la buona creanza, grazie dell'invito, è un ringraziamento tutt'altro che di circostanza, tutt'altro che retorico perché è stata un'occasione di formazione per me, come diceva la collega Tabano poco fa, veramente preziosa, tanto lo è stata che io ho deciso di rivedere significativamente la scaletta dell'intervento che avevo in qualche modo buttato giù nei giorni scorsi perché sono tali e tante le sollecitazioni che sono emerse che meritano una seria presa in considerazione e un serio riscontro in chiave legale da parte mia o almeno un tentativo assai modesto in questo senso. Una buona parte delle mie considerazioni sono già state introdotte dalla collega Tabano e quindi per comodità espositiva, a costo di andare con l'accetta, parto subito dalle premesse dell'intervento sul reato di getto pericoloso di cose. Le premesse sono fondamentalmente due. Uno, in questo Paese non esiste una seria tutela penale dell'ambiente. Immagino di non rendere un grande servigio al valore del mio intervento e della materia del mio intervento partendo da questa premessa, però mi pareva anzitutto il caso di sgombrare il campo da questo equivoco e di non creare particolari aspettative in questo senso. In Italia non esiste una seria tutela penale dell'ambiente perché tutti, praticamente tutti, tranne uno, i reati ambientali sono costruiti come contravvenzioni e non come delitti. Noi nel nostro ordinamento abbiamo una bipartizione dei reati in due tipi delitti, che sono i reati più gravi, e contravvenzioni, che sono i reati meno gravi e infatti più che un reato, più che un attentato ad un bene comune fondamentale come l'ambiente la categoria della contravenzione evoca, immagino, anzitutto qualche cosa di più simile al divieto di sosta. Noi abbiamo una situazione tale quindi per la quale al bene giuridico ambiente è apprestata una tutela penale che non è effettiva, non è efficace, non è seria e tra le altre considerazioni che si possono fare in questo senso è palesemente violativa, per esempio, di tutti i precetti, di tutte le raccomandazioni che arrivano dal legislatore europeo, dagli organi comunitari che con una serie reiterata di direttive hanno fortemente caldeggiato i vari legislatori nazionali ad adottare sanzioni penali a tutela dell'ambiente, serie proporzionate e dissuasive. Nel nostro ordinamento ancora siamo al punto in cui il reato ambientale, come dicevo un minuto fa, è un reato di serie B sotto tutti i profili, come peraltro la vicenda specifica e oltremodo emblematica dell'articolo 674 del reato di getto pericoloso di cose, illustra. La seconda premessa per venire direttamente alla questione campi elettromagnetici è che la normativa fondamentale in materia di campi elettromagnetici, la legge quadro 36 del 2001 non prevede in assoluto sanzioni penali, cioè non ne prevede né di serie A né di serie B. Le uniche sanzioni previste dalla legge quadro in materia di campi elettromagnetici sono sanzioni di natura amministrativa, sono illeciti amministrativa. Siccome la nostra pubblica amministrazione non è nota nel mondo esattamente per autorevolezza, imparzialità, rigore, efficacia ed efficienza, è evidente che qualsiasi tipo di sanzione la cui attuazione concreta venga rimessa ad una pubblica amministrazione che è nelle condizioni materiali e morali in cui è quella nostra presta il destro questa ipotesi a qualche scenario non particolarmente rassicurante in termini per l'appunto ancora una volta di tutela reale del bene ambiente. è stato dunque riesumato o per usare una locuzione un po' meno impattante riciclato un reato che nasceva per tutt'altre finalità come il reato di getto pericoloso di cose anche al fine della tutela ambientale con particolare riferimento alle esposizioni ai campi elettromagnetici. Ora per darvi un po' l'idea di che cosa sia realmente questo reato, di quale ampio raggio di applicabilità, di quale spettro sterminato di utilizzazioni è capace con tutto quello che questo comporta poi in termini ancora una volta di efficacia reale di questa normativa di repressione penale e quindi di tutela del bene giuridico vi posso dire per esempio che qualche giorno fa la Cassazione ha ribadito che questo tipo di reato si applica per esempio ad una situazione del genere un soggetto butta dei mozziconi di sigaretta da un balcone al balcone come dire sottostante questa ipotesi concreta integra il reato di getto pericoloso di cose in pratica il nostro ordinamento oggi è ridotto al punto tale per cui la tutela penale dall'elettrosmog, dall'inquinamento elettromagnetico, dai campi elettromagnetici è fondamentalmente riposta in una norma incriminatrice che si usa anche per il getto di mozziconi di sigaretta per darvi un po' icasticamente l'idea dello stato dell'arte ora ciò nonostante però a questa norma viene fatta regolarmente la guerra diciamo così dagli imputati, dai loro difensori penali e dai loro consulenti tecnici perché per esempio fino alla vicenda di Radio Vaticana come ricordava la collega Tabano è stata propalata la versione per la quale al campo elettromagnetico non si potrebbe configurare la categoria di cosa, non potrebbe rientrare il campo elettromagnetico nella categoria di cosa che è quella che invece sta scritta nella norma in questione quindi in quanto tale il campo elettromagnetico non sarebbe proprio riconducibile all'ambito di applicabilità del getto pericoloso di cose ma ci sono, questa questione è stata fortunatamente ormai rintuzzata è rientrata nei ranghi e patrimonio comune di tutti gli operatori del diritto è diritto vivente quello per cui il getto pericoloso di cose si applica anche ai campi elettromagnetici altre questioni anche queste agitate nella vicenda oltremodo paradigmatica di Radio Vaticana hanno riguardato per esempio il nervo scopertissimo cui pure faceva riferimento bene la collega Tabano tra reato, configurabilità del reato, limiti di emissione, provvedimenti autorizzatori da parte della pubblica amministrazione e soprattutto esercizio di attività considerate da legislatore socialmente utili in pratica in una prima sentenza della Cassazione in ambito di Radio Vaticana relativa al caso di Radio Vaticana pur affermandosi che i campi elettromagnetici sono cose e quindi il reato di getto pericoloso di cose si può applicare anche ai campi elettromagnetici tuttavia veniva affermato che quando ci si trovi in presenza di attività regolarmente autorizzate dalla pubblica amministrazione ed operanti all'interno dei limiti di emissione previsti dalla legge e soprattutto attività in quanto tali considerate da legislatore socialmente utili il mero rispetto dei limiti da parte dell'operatore doveva perciò stesso far escludere il reato quando anche le molestie di cui parla l'articolo 674 materialmente si fossero verificate nelle case delle persone quando anche dai citofoni fosse uscita il rosario di Radio Vaticana dai forni a microonde fossero uscite benedizioni papali a go go ed altre situazioni amene di questo tipo questa è una questione che per quanto stiamo parlando di una fattispecie che poi ha le caratteristiche che vi dirò in una parola di qui a qualche minuto e che complessivamente è una fattispecie poco seria come dicevo poco fa cioè una fattispecie penale poco seria in relazione al bene giuridico tutelato questa questione cui facevo riferimento poco fa è in realtà portatrice di una carica non solo emblematica ma anche proprio concreta potenzialmente devastante sotto il profilo dell'applicabilità nel nostro ordinamento per esempio ad altre fattispecie ben più gravi quali quelle relative alle morti seriali di lavoratori e di persone che abitano o che abitavano o che abiteranno intorno a siti inquinati ed inquinanti che se dovesse passare quella lettura della Cassazione quegli omicidi non potrebbero più essere considerati tali quando soltanto il gestore di quello stabilimento dovesse essere in grado di dimostrare di aver agito entro i limiti e la storia giudiziaria di questo paese ma prima ancora la storia sociale è fatta di massacri letteralmente su scala seriale di lavoratori e di cittadini inermi massacrati a perfetta norma di legge perché apparentemente i gestori di quegli stabilimenti erano perfettamente in regola rispetto alla normativa di riferimento allora il problema è anzitutto la normativa di riferimento che cos'è un limite ma c'è di più il principio che deve valere invece in queste situazioni è quello che si applica in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori che è statuito questo principio da un articolo del codice civile il 2087 che prevede in quel contesto a favore dei lavoratori e a carico del datore di lavoro l'obbligo della massima sicurezza tecnologicamente possibile non il rispetto di un limite questo deve valere anche in ambito ambientale in ambito ambientale quello che deve valere in capo ai soggetti tenuti all'osservanza dell'obbligo in capo ai soggetti depositari cioè della posizione di garanzia è l'obbligo di massima sicurezza ambientale tecnologicamente e non economicamente possibile perché tutela dell'ambiente è ormai fortunatamente risaputo e acclarato che perciò stesso significa tutela della salute pubblica e la tutela della salute pubblica secondo l'articolo 32 della nostra Costituzione è un fondamentale diritto dell'individuo ed interesse collettivo se così è e così non può non essere altro che rispetto formale e notarile dei limiti e basta a cui dovrebbero essere tenuti industriali e comunque soggetti gestori di attività potenzialmente pericolose per l'incolumità pubblica due minuti forse anche qualcuno in più quanti ce n'ho ancora? due avevo intuito bene io ho sentito cose stamattina e vengo alla parte diciamo fuori traccia rispetto al mio intervento ho ascoltato informazioni ho letto dati relativi alla situazione di Porto Potenza Picena che non possono non essere sottoposti domani o dopodomani al massimo alla procura della Repubblica di Macerata che deve io non so io non so cosa sia successo nelle 22 occasioni precedenti che ha citato in maniera molto toccante la professoressa che ha introdotto questo intervento io non so cosa sia successo in quelle situazioni so però che di fronte a questa massa di dati contraddittori che non hanno considerato forse in parte i fattori di confondimento non lo so so che questi dati sono sufficienti a giustificare una seria indagine penale da parte della Procura della Repubblica di Macerata devono esserlo non possono non esserlo non possono non esserlo e se l'indagine epidemiologica professoressa non l'ha fatta la Regione o non l'hanno fatta gli altri enti di tutela della salute pubblica preposti non è una buona ragione per la quale non la debba fare almeno la Procura della Repubblica di Macerata non è così è vero che è brutto è sgradevole è scorretto che la magistratura funga sempre da supplente la magistratura penale in particolare funga da supplente delle carenze e delle omissioni delle altre pubbliche amministrazioni ma se in presenza di carenze e di omissioni delle altre pubbliche amministrazioni la magistratura non svolge una funzione di supplenza non fa il dovere suo compie un ulteriore illecito un'ulteriore omissione la stessa magistratura penale che quindi non può svolgere funzione di supplenza in queste situazioni deve glielo impone il codice di procedura penale e anzitutto deve guardate e chiudo e non vi do altro fastidio Debra Davis che è una grande epidemiologa statunitense diceva che con i campi elettromagnetici probabilmente si ripeterà come ricordava prima il professore Bonapace si ripeterà quello che è successo anzitutto col fumo e poi con l'amianto e poi con altri a meni fattori di salubrità pubblica di tal fatta cioè sostanzialmente Debra Davis dice si è scoperto che il fumo era nocivo negli anni 30 lo si è messo al bando negli anni 90 con i CEM rischia di funzionare così guardate iniziative del genere hanno il valore aggiunto etico, civile e giuridico spesso e volentieri di impedire questo cioè di impedire che un fattore conclamatamente nocivo oggi diventi illegale fra 50 anni è una elementare regola di autotutela della salute pubblica dei diretti interessati vi ringrazio dell'attenzione grazie grazie infinite Grazie infinite.